Non solo bevande, via Serro 1 Angolo via Roma, San Giorgio Ionico Taranto, bevande di ogni genere, offerte incredibili, ricco assortimento di vari tipi di acqua minerale, numerose marche di birra e vini rinomati, anche Santero, bevande tipiche della Romania, liquori vari, e ancora, bibite fresche, pasta, caffè in cialde e capsule. Servizi a domicilio, qualità e convenienza mai viste. Per la tua festa il kit promozionale in offerta speciale, bevande, piatti, bicchieri, tovaglie e tovaglioli con i tuoi personaggi preferiti a scelta. Tutto a 25 euro. Inoltre vi offriamo i seguenti servizi. Ricariche telefoniche, ricariche poste pay, pagamento bollettini di ogni genere, anche bollo auto, noleggio auto a breve e lungo termine. Non solo bevande vi aspetta per stupirvi. Venite a trovarci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS